ci siamo? nel terca? non credo da 30 kg un temolo hai preso un temolo? nooo aspetta che rigiro l'A-Team nooo il temolo non perdermelo eh no no è che è abbastanza lento eh ma strano perché era lentissimo pensavo un siluro per quello questo è un altro pesce che d'inverno anche lui si compatta si, creano dei branchi e dopo quando ci capita in mezzo eccolo delle catture occasionali questo dove l'ho preso? un temoloso piano eh che tonnetto ragazzi che pinna gialla senza andare alle piattaforme mi dicono che tonnetto che è questo qui stiamo calmi con quella testina morbida che veramente sembra un partenze da tonno che pinna che pinna non viene mica vicino eh no no però è cotto vedi che è cotto lo so che è cotto apero 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 mamma mia enorme enorme no enorme enorme ma dov'è che ci sta quello in quel guadino ma sta bomba mamma mia che numero che numero che numero ma che numero è questo qui mamma mia mamma no 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 basta andiamo a casa ma cos'è guarda che petardo ma che petardo è no impressionante che numero hai fatto vabbè per la no ma enorme ciao porto aspetta che ti do una mano aspetta un attimo usciamo il forno un attimo preso per il rotto al massimo ti poteva addrezzare la sì l'ancorina l'ancoretta anche perché c'è a vedere a vedere pensai che fosse un siluro pensavo un siluro è vero l'importanza però di avere l'ancoretta è vero non proprio scarsa non molto delicati guarda che bocca guarda che bocca il famoso testo bolici ma che pitrella di fischia a parte che c'ha un colore bellissimo si è veroso si è veroso che tonno che tonno io rossigenavo un po' si ho preso su un po' d'aria guarda che cosa mi sembra quella coda e non ho le mani piccole è una taglia questa qui che potremmo definire normale 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 qui prendono dei colori bellissimi ne ho visti anche proprio che sono delle coi si si ne ho visti alcuni scuri da matti neri neri come la pece da svidani a temolo russo puoi prendere ferie domani secondo me è un po' di terapia per la schiena qualche massaggio vado bene un goccio d'acqua o un po' di grappa perché c'è anche un po' di grappa è meglio un podger room un podger room un po' di grappa